Ti ricordi la prima volta che sei andata a cena con tuo marito? Di sicuro avevi fatto una doccia, avevi scelto dei vestiti puliti e stirati, avevi capelli sistemati e avevi messo il profumo. Non è vero? Bene, se vuoi vendere la tua casa nel minor tempo possibile e al miglior prezzo di mercato, devi fare la stessa cosa, devi prepararla per il suo primo appuntamento. Perché? Perché se la sua casa ha un aspetto disordinato, trasandato, se è piena di cose o di mobili del 1980, non riuscirai a fare colpo sul potenziale acquirente. Invece noi vogliamo che scocchi la scintilla. Noi siamo qui per aiutarti a far emergere la tua casa fra gli innumerevoli annunci che intasano giornalmente i portali immobiliari. Senza ristrutturarla, faremo brillare la tua casa e la trasformeremo in una casa da copertina. Se ti affiderai al nostro reparto dedicato agli allestimenti, la tua casa sarà la più cliccata e la prima ad essere vendita. Ti starai chiedendo quanto costa questo servizio e io ti rispondo che lo pagherai già all'interno della nostra provvigione. Pensiamo a tutto noi e ci pagherai la provvigione solo a vendita venuta.